Sono passati ormai 9 anni dall'uscita di The Last of Us, il grande capolavoro targato Naughty Dog uscito per la prima volta appunto quasi 9 anni fa su PlayStation 3. Successivamente riproposto in versione rimasterizzata per i sistemi PlayStation 4, questo autentico capolavoro sta per fare il suo grande ritorno su PlayStation 5 con un vero e proprio remake. Il suo annuncio è stato tutto forché una sorpresa, se ne parlava da circa un anno e oltretutto circa 3 o 4 ore prima dell'annuncio vero e proprio è stato pubblicato, si presume per errore, il trailer su YouTube. La vera sorpresa però, amici miei, è stata il prezzo. In molti, me incluso, si sono domandati perché cazzo Sony ha pensato di vendere questo remake a 80 euro e dopo averci pensato su a lungo, credo che abbiano fatto bene. Innanzitutto si parla di un remake e non di una remastered come in molti anni ipotizzato. Intelligenza artificiale completamente rivista, combat system migliorato, scene di intermezzo tirate a lucido, ricreate da zero con le nuovissime tecnologie, quelle più all'avanguardia, e tutta una serie di migliorie che vedremo presumibilmente da qui a breve, visto che il gioco deve uscire il 2 settembre, che sembrerebbero giustificare la dicitura di remake. Ma questo è solo uno dei motivi per cui, a mio avviso, questo gioco può essere riproposto a prezzo pieno. È doveroso sottolineare il fatto che lo sforzo produttivo non è neanche lontanamente paragonabile a quello che c'è stato per il primo capitolo o per lo sviluppo del secondo. Il materiale, bene o male, era già pronto, quindi si è saltata tutta la fase di concept, di scrittura, quello già c'era. Ma vi svelo un segreto, nessuno è obbligato a comprarlo. Io infatti sarò tra quelli che, molto, molto felicemente, anzi sono me ne vanto, si terrà 80 euro per sé. Sei un poveraccio! Il target sono due tipologie di persone. I nostalgici, quindi le persone che hanno veramente tanta voglia di rigiocare il primo della Stovas e che quindi sono disposte a pagare 80 euro per giocare la stessa esperienza migliorata e spinta al massimo e le persone che non lo hanno mai giocato, che sono veramente tante. Nove anni, ragazzi, sono tanti. Sono abbastanza da avere incluso all'interno del settore molte persone che nel 2013 probabilmente non giocavano o comunque non giocavano a titoli come della Stovas. Questa riproposizione vuole essere un rilancio di questo grande capolavoro per cercare di riempire il buco che c'è tra The Last of Us parte 2 e Factions, ovvero la componente multiplayer di cui magari parleremo in un altro video quando avremo qualcosa in mano, promuovere la serie tv che uscirà l'anno prossimo su HBO e che da noi verrà trasmessa su Sky e su Naughty V e semplicemente monetizzare. I giochi non si fanno gratis o riesci a creare, come hanno fatto Rockstar, una vera e propria miniera d'oro, che è GTA Online, dalla quale prendere soldi su soldi su soldi senza dover pubblicare costantemente i tuoi titoli single player, altrimenti devi trovare uno stratagemma per cercare di tirare su qualche soldo. In molti hanno definito questo remake un cash grabbing, ovvero un tentativo di acchiappare soldi. Ma io mi domando quale prodotto non lo è? Lo scopo ultimo di questi prodotti è fare soldi. Certo, questo ovviamente ragazzi fa avanti al fatto che ci sia l'esigenza di proporre a noi giocatori un'esperienza. Anche perché The Last of Us mi sembra tutto perché è un titolo super commerciale. Però è logico, comunque è ovvio che tu voglia fare soldi e se puoi fare soldi riproponendo un capolavoro che ha fatto record su record per i premi ricevuti ad un pubblico che magari non lo ha giocato, che ne ha sentito parlare dopo il successo del 2, dopo l'annuncio della serie tv o quant'altro fai benissimo. E appunto come vi dicevo possiamo tranquillamente non comprarlo. Ho meditato a lungo e alla fine ho scelto di non acquistarlo. D'altronde sto giocando Phantom Pain, mi durerà ancora verosimilmente qualche mese. Finito Phantom Pain voglio dedicare qualche ora a Stray, il gioco del gatto, per chi non lo conoscesse se non con questo nome. Dopodiché ragazzi c'è God of War Ragnarok, The Callisto Protocol, Dead Space Remake, le cose da giocare non mi mancano. Oltretutto vorrei acquistare una Series X, quindi insomma avrò anche tutto un altro ecosistema da esplorare. Quindi alla domanda The Last of Us Remake vale i miei 80 euro? Non posso che rispondere con dipende da te. Se non hai mai giocato The Last of Us e vuoi giocarlo nella sua miglior forma, allora sicuramente questo gioco per te 80 euro non solo li vale, ma è imperativo che tu lo acquisti. The Last of Us è uno di quei titoli che non posso non consigliare ad ogni videogiocatore. Sei un nostalgico? Hai voglia di rigiocarlo? Compralo! Se invece, come me, non hai tutto questo interesse, puoi farne a meno, allora forse non ha neanche senso che tu perda tempo a lamentarti come ho fatto io e che quindi semplicemente tu non lo acquisti. Per quanto mi riguarda lo comprerò magari un po' più in là quando il prezzo sarà decisamente più basso, prendendolo magari con un'offerta o che cavolo ne so, giusto per il piacere di rigiocare a quello che non lo nascondo uno dei miei videogiochi preferiti di sempre. Una cosa però è certa, se un giorno lo acquisterò sicuramente non lo acquisterò da GameStop. Siamo arrivati alla fine del video, vi ringrazio per essere arrivati fin qua, vi invito a lasciare un like, a condividere, importantissimo condividete e se non sapete perché ho detto quella frase su GameStop vi invito a guardare il video qui in alto a destra perché intanto è, piccolissima parentesi prechiusura, il video credo più visto del canale nel giro di 24 ore, di questo vi ringrazio tantissimo e a tutti i neo iscritti date un'occhiata anche al resto del canale che c'è roba che merita. Fatemi sapere qua nei commenti cosa pensate di questa faccenda del prezzo di The Last of Us Remake, se siete interessati, se avete già giocato l'opera originale, mi raccomando non fate alcuno spoiler. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto dai Crude Dudes.